Ulla balulla, cuccia tu, scampi giganti e timbuktu Ciao a tutti persone e benvenuti in questo nuovissimo video Oggi siamo qui in una challenge per me impossibile nelle bedwars Che consiste nel non dire... beh, la parola magica Mi raccomando lasciate un bel like, iscrivetevi al canale e io direi di iniziare subito Mi raccomando, se arriviamo ai 40 like Questa serie continuerà con nuove parole da non dire Quindi mi raccomando, arriviamoci Ok, siamo in partita Allora, io già vi dico che non riuscirò a fare questa cosa Perché secondo me è letteralmente impossibile Però, prima di tutto, dobbiamo prenderci della lana Così almeno da poter andare subito al centro e ovviamente proteggere il letto Sono caduto male Però questi sono dettagli, siamo ancora vivi ragazzi Allora, ciao a tuttiend mercy! Grazie a tutti.